La mattina hai il business in bocca. Che cosa vuol dire? Beh, dunque, in generale, quando si fa business, nel momento in cui hai un'attività, se sei un imprenditore, se sei un professionista, capita spesso di ritrovarsi nella situazione in cui si dice ah, come vorrei che le giornate avessero 48 ore, il tempo non mi basta mai, vorrei avere più tempo nella mia giornata e riempirlo sempre di lavoro perché non ce la faccio mai a finire tutto quello che vorrei fare. Succede, può darsi che non sia salutare, ma succede, succede a tante persone. E il vero proverbio in realtà è la mattina ha l'oro in bocca, chiaramente. E questo significa che in realtà ciò che fai la mattina è ciò che fai meglio. Per cui puoi anche averci la giornata lunga 48 ore, ma le cose che fai meglio, le cose davvero di qualità, che poi alla fine sono quelle più importanti nel momento in cui fai business, perché fare business significa creare, fare business significa produrre cose, servizi, prodotti di qualità, beh, ciò che fai la mattina è ciò che fai meglio. Quindi riservati le mattine per fare le cose che sono più importanti. E nel momento in cui magari hai tante cose da fare, hai varie attività, vari filoni del tuo business, o magari anche più di un business, beh, in realtà il tuo vero business è quello che fai la mattina, perché la mattina è quello che fai meglio. E considera la possibilità di trovare in qualche modo artificialmente la maniera di allungarti le mattine. Come fai? Per esempio ti puoi svegliare prima, inizia prima la mattina, invece di, se ne hai la possibilità, chiaramente, c'è chi non lo può fare per la routine che ha, ma se ne hai la possibilità, iniziare la mattina prima, invece che traccheggiare, invece di andare a fare altre cose, invece di andarti magari a fare la spesa la mattina e poi magari iniziare a lavorare un pochino più tardi, cerca di iniziare presto, il prima possibile, magari anticipa la sveglia, anche solo per allungare la mattina, perché ciò che fai la mattina è ciò che fai meglio. Quindi ciò che fai la mattina è ciò che fai meglio, ma ciò che fai la mattina è anche il tuo vero business, quindi considera la possibilità di allungare la tua mattina svegliandoti prima. Io sono Marco Scabia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web, che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabia.com, poi lasciami un commento, lasciami una reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti senza mai fermarsi.